ciao a tutti e bentornati nel mio canale scusate per questa pessima inquadratura per questa pessima luminosità ma sto facendo il video molto velocemente col cellulare perché sono in partenza sto andando all'aeroporto di orio al serio perché decolleremo insieme verso il portogallo perché vi porterò con me farò un pochino di vlog durante il viaggio spero di riuscire a farlo anche in aereo insomma ci terremo un po compagnia ovviamente anche quando sarò in portogallo farò i video quindi continuerò a essere presente sul canale vedrete una location diversa ma continuerete a vedere video perché le passioni per me in vacanza non ci vanno mai quindi anche se io sono in vacanza youtube viene con me comunque ragazzi al di là di questo adesso io volevo portarvi con me devo partire assolutamente nel giro di tre secondi perché sono già in ritardo quindi direi che non mi dilungo troppo e andiamo subito insieme verso bergamo siamo in viaggio verso bergamo siamo in autostrada ci stiamo dirigendo verso l'hotel molto molto piano una cosa carina è che c'è la luna piena vedete non so se riuscite a vedere bene a distinguere perché ci sono anche le luci della strada però è una cosa molto romantica fare il viaggio con la luna piena che ci accompagna volevo fare questo pezzettino di video per condividere con voi anche questa prima parte del viaggio vedete che qui abbiamo il navigatore che ci sta indicando quanto tempo manca all'arrivo ma non dovrebbe mancare molto abbiamo il cruscotto tutto illuminato e continuiamo piano piano verso l'hotel sono a bergamo in hotel ci stiamo preparando per andare in aeroporto vi faccio vedere velocemente la stanza ma è veramente piccolina e quello che volevo farvi vedere soprattutto il mio outfit da viaggio per prima cosa vi faccio vedere le scarpe comode i jeans una semplice cintura poi ho messo quella maglia che vi avevo fatto vedere in un video haul quella con l'elefante con tutti gli strass veramente carina mi piaceva poi gli orecchini ho messo questi qua a forma di fiore la collana ho messo quella e sono abbastanza comoda vestita così vedete la valigia alle mie spalle c'è uno zaino e una valigia che vanno bene come bagaglio a mano sono in aeroporto stiamo aspettando che apra il gate vi faccio vedere la pista là c'è un aereo che si prepara insomma siamo qua io mi sono posizionata qui questa è la mia valigia il mio zaino ho anche una giacca perché poi so già che in aereo c'è l'aria condizionata e laggiù c'è la pista quindi aspettiamo e tanto che aspettiamo vediamo un decollo questo aereo bianco e rosa che passa che insomma ci ha regalato questa visuale questo decollo laggiù c'è ryanair che si prepara siamo in aereo sono salita sono nelle nei posti quelli di emergenza dell'uscita di emergenza perché sono più larghi quindi di solito scelgo questi comunque adesso aspettiamo il decollo siamo ancora fermi siamo qua che attendiamo finalmente ci stiamo muovendo dopo un po di attesa ci ha messo un po a partire comunque adesso sta ancora andando piano vedete che di là c'è un altro aereo di ryanair andiamo tranquillo però piano piano prende velocità ecco che sta aumentando la parte del decollo ragazzi è quella che mi piace di più io ve lo dico mi entusiasma mi esalta adesso prende velocità lo sento che tra un po sta per salire sta andando sempre più veloce sempre più veloce vedete che anche il paesaggio a fianco scorre molto più velocemente ecco qua vediamo gli aerei stiamo proprio uscendo di pista nel senso che stiamo arrivando ecco che si alza ecco che decolla ragazzi quanto mi piace il collo è una cosa che veramente mi entusiasma lo so mi entusiasmo per poco è vero però ragazzi mi piace tantissimo vedere la città dall'alto guardate che meraviglia cioè mi sento padrona del mondo in questo momento vedere le cose dall'alto proprio mi piace tantissimo pur essendo io una persona che soffre di vertigini però in aereo non soffro l'aereo mi piace tantissimo e quindi insomma è un momento che proprio mi entusiasma adesso stiamo virando leggermente deve un po' sestarsi perché sta un po' oscillando qua e là però insomma piano piano si addrizza vedo che c'è un po' di foschia là in fondo il paesaggio è sempre più sfumato sempre meno distinguibile sono in volo è tutto abbastanza tranquillo tutto procede senza turbolenze mi hanno dato questo catalogo e volevo sfogliarlo con voi perché comunque sono quei cataloghi carini che vi fanno vedere tutti i prodotti a basso costo perché sapete che in volo non ci sono le tasse quindi ci sono profumi creme prodotti qua ad esempio abbiamo profumi a 20 30 euro io non sono un'appassionata di profumi sapete che uso solo jador però comunque sono dei prezzi buoni quindi insomma tutto sommato ci può stare questo è un packaging che mi piace tantissimo questa scarpa con intacco carolina herrera è un profumo credo che non conosco però un bellissimo packaging accidenti questo forse sarebbe da comprare poi vediamo un po qua ci sono i profumi da uomo io purtroppo me ne intendo poco di profumi quindi posso guardare un po così i prezzi packaging però non li conosco qui invece abbiamo gli orologi che mi piacciono molto di più questo è un bello orologio da uomo 59 euro veramente carino mi piace molto poi ci sono gli occhiali da sole le creme light touch quindi le cuffie il power bank credo quello laggiù con il telefonino un orologio per sportivi qui abbiamo di nuovo quel packaging bellissimo di quel profumo con la scarpa col tacco abbiamo qui altri profumi accidenti ragazzi quanti profumi che vendono già anche in altri viaggi in aereo mi sono resa conto che i profumi proprio vanno per la maggiore perché è la cosa che più di tutte trovate sui cataloghi qui ci sono i prodotti solari qui ci sono un po di prodotti di makeup fondotinta ah le due palette queste qua belle queste mi piacciono molto 38 euro e 25 e 50 non le acquisterò perché sinceramente i soldi me li voglio tenere per fare qualcosa poi quando sarò in portogallo quindi me li voglio spendere per la vacanza però effettivamente queste due palette poi la mia passione per le palette la conoscete mi ispirano mi ispirano di più ciglia finte poi questo cos'è un fissante forse il problema è anche che io non so l'inglese e questo catalogo è tutto in inglese quindi purtroppo io posso solo vedere le figure ma non è che capisco benissimo quello che c'è scritto sotto alcuni prodotti li conosco ovviamente ma per quelli che non conosco è un po più difficile qui è dedicato a harry potter quindi gioielli di harry potter ciondoli non so qua ci sono dei piccoli orecchini e altri orologi ecco mi piace questo questo è veramente bello bellissimo questo orologio 44 euro ed è veramente carino molto colorato molto estivo particolare mi piace qua ci sono i classici modellini con l'aereo di ryan air gli occhiali da sole insomma tutte queste cose un po le carte da gioco cose un po particolari però tutto sommato carine adesso vediamo la parte opposta del catalogo che è quella dedicata al cibo vedete che qua ci sono delle cose da mangiare ci sono degli snack quindi patatine brioche cose di questo genere ci sono dei panini col prosciutto col tacchino questo mi ispira quello lì col tacchino altri snack bibite cose di questo genere lattine barrette tipo le barrette energetiche col cocco col cioccolato le mandorle tutte queste cose qua a me piace guardare questi cataloghi però in realtà queste non sono cose che io comunque mangio tanto volentieri quindi diciamo che mi piace guardare ma poi non credo che acquisterò qualcosa qui ci sono le brioche salate che ho provato una volta ma devo dire che non mi sono per niente piaciute preferisco quelle dolci quindi sono un po tradizionalista su questo qua ci sono dei cappuccini cioccolato latte cose di questo genere quel panino lì che continua ad ispirarmi quello è un panino forse con i cereali e con il tacchino all'interno adesso vabbè adesso sto inquadrando dall'altra parte perché volevo capire cos'erano però quel panino lì questo mi ispira un pochino di più però comunque ci siamo portati i panini presi in aeroporto ce li mangeremo quando atterriamo quindi non penso che comprerò qualcosa adesso qua ci sono dei piatti di pasta un risotto altre brioche queste invece credo siano dolci snack di vario tipo il mars quanti anni che non mangio il mars qua invece cosa c'è sempre solite barrette dolci quindi il kit kat e lo hacker kinder bueno insomma tutte queste cose qua questi a parte gli amemens gli altri non li conosco quella sembra una fetta di torta poi ci sono le caramelle c'è lo snack con la nutella però è sempre carino comunque guardare questi cataloghi qua addirittura c'è il bicchiere con il vino credo sia vino non so perché come vi ho detto io non so l'inglese quindi guardo le figure più che altro altri snack di vario tipo lattine bibite la pepsi laggiù poi altre bibite che io assolutamente non conosco magari sono famosissime ma io non le conosco qua ci sono alcolici di vario genere qui li conosco ancora meno piatti da ordinare da preordinare questo l'ho capito bisogna preordinarli online credo 12 euro 15 euro 10 euro beh diciamo che è abbastanza fattibile cioè nel senso che se voi avete fame sull'aereo 10 euro si possono spendere non sono cifre esorbitanti qua ci sono altre bibite di vario genere poi cosa c'è qua vediamo un po' queste patatine queste sono le uniche patatine che mi piacciono perché le altre io non le mangio quelle devo dire che non le compro però se mi capitano sotto mano perché magari sono una festa o qualcosa del genere le mangio perché sono buonissime siamo in volo stiamo attraversando le nubi perché ci prepariamo all'atterraggio quindi vedete che stiamo proprio entrando nelle nuvole che è una cosa affascinante mi dispiace che sia nuvoloso ma è bellissimo siamo in dirittura d'arrivo perché il comandante ha appena annunciato di allacciare le cinture di sicurezza perché ci prepariamo per l'atterraggio quindi siamo vicinissimi siamo a faro perché è la località in cui atterriamo quindi questa parte che vediamo adesso sono i dintorni della città di faro ed è molto affascinante peccato che il tempo non è dei migliori perché comunque il tempo è nuvoloso però vedete che carino che è sembra che ci siano degli isolotti sparsi qua e là con dei fiumi nel mezzo un po' particolare questo paesaggio non me lo aspettavo così e mi sta già affascinando ho fatto un sacco di foto ragazzi ho già fatto un sacco di foto adesso che devo ancora scendere figuriamoci poi quante foto farò quando sarò sul posto comunque insomma adesso quello che mi interessa è scendere dall'aereo perché sono veramente curiosa di vedere il portogallo sono anni che volevo andare in portogallo quindi comunque ci stiamo preparando perché sento che l'aereo scende quindi sta andando sempre più giù ecco che si avvicina cominciamo a vedere la pista ecco che tra un po' tocchiamo terra va molto piano ecco che abbiamo toccato siamo arrivati abbiamo abbiamo raggiunto la terraferma siamo atterrati c'è stato un po' uno scossone penso che l'abbiate notato però è veramente veramente carina questa parte mi piace tantissimo soprattutto mi piace il decollo ma anche l'atterraggio devo dire che è proprio bello perché segna il fatto che siamo arrivati a destinazione adesso ci sono un po' di scossoni scusate se il video è mosso però insomma un video in aereo non può essere fermo più di tanto finalmente siamo atterrati avete visto adesso qui siamo dalla macchina abbiamo noleggiato una macchina abbiamo subito scoperto che l'assicurazione non era valida quindi l'abbiamo pagata due volte però la macchina è molto carina ora ve la faccio vedere finalmente siamo arrivati qua in portogallo nella casa delle vacanze vedete lo sfondo alle mie spalle che è molto particolare perché c'è quel paesino con le casette bianche ora magari lo vedete male ma poi ve lo farò vedere meglio il viaggio è stato tranquillo è andato tutto bene a parte quella cosa dell'assicurazione che insomma ho dovuto spendere il doppio perché non era valida comunque magari poi ve lo spiego meglio in un altro video comunque insomma alla fine è tutto tranquillo adesso siamo qua la casa mi piace molto carina adesso ve la faccio vedere bene vi faccio vedere tutte le stanze questo è il terrazzo c'è un po' di vento però devo dire che mi piace tantissimo sia la casa sia il panorama che abbiamo qua ora vi faccio vedere questa è la nostra casa vacanze vedete che è carina c'è una bellissima vista c'è un terrazzino molto carino con il tavolino le seggiole questo bel divano con le poltroncine abbiamo tutto televisore la cucina che è veramente molto attrezzata quasi come quella di casa mia quindi bellissima questo è il bagno anche questo secondo me molto carino e la camera da letto che è assolutamente bella perché è spaziosa c'è un bell'armadio quindi insomma è una casa questa che mi piace veramente tanto e va benissimo per le vacanze io concludo qui questo lungo vlog sul viaggio che abbiamo fatto da bergamo al portogallo vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto mettete un like al video se vi è piaciuto continuate a seguirmi perché arriveranno altri video qui dal portogallo io vi mando un bacio enorme un po' 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 un po